Questo spettacolo è una sfida, lo è stato per Camus che ci ha lavorato per vent'anni. È una sfida per Caligola perché da solo con le proprie forze prova a raggiungere la risposta al desiderio di felicità del proprio cuore. Buongiorno Caligola, buongiorno Alicone, sembri stanco, ho viaggiato molto, voglio ritrovare la pace in un mondo tornato alla coerenza. Non esiste, ma l'impossibile c'è, non esiste o no. Forse dovrei ucciderti per capirlo. Sarebbe una soluzione, fallo! Questa è la felicità, questo disprezzo universale, tenere sotto di sé tutta la vita! Attento Caligola, attento alla storia! Caligola! 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 Grazie a tutti.